bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di novità per quello che riguarda i prossimi giorni di fortnite vedremo davvero una tonnellata di roba nuova ad esempio l'arrivo di una nuova base come quella della lobby ma parleremo anche del nuovo pacche di playstation plus di quello che sta per accadere in mappa della skin venom e tanto tanto altro prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è una cosa veramente tristemente divertente vi spiego perché perché se voi ancora girate sul sui software apple se andate a per la precisione su apple music utilizzano ancora il banner del concerto astronomical per promuovere le canzoni di travis scott per alcuni questo è stato interpretato come uno spiraglio di luce per rivedere il gioco ovvio sia fortnite su ios ma purtroppo ragazzi non è così semplicemente si sono dimenticati di rimuovere i rimasugli sappiamo che il 28 settembre ci sarà la sentenza finale del giudice ma purtroppo molto probabilmente non vedremo più fortnite su ios a meno che sia ip games che deciderà di pagare le commissioni ad apple quindi ragazzi ironica ma purtroppo triste come cosa e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è una roba veramente curiosa e schifosa che è stata trovata nei file di gioco hanno trovato una copertura che è ancora in lavorazione che come caratteristica a degli insetti in movimento dei bug come li chiama loro quindi o scarrafone per capirci un pochettino bene ragazzi qua vediamo appunto un'anteprima presa ovviamente dai file di gioco non sappiamo il perché però avrà sicuramente un motivo una roba del genere perché troppo strana da vedere magari relativa all'autunno non si sa non appena ci saranno delle informazioni in più le diremo anche a voi ma ragazzi arriviamo a un argomento veramente bello interessante perché questo mese ci sarà il compleanno del battle royale e anche per questa volta fortnite sembra non essersi risparmiata i regali infatti nella patch 14.10 è stata trovata la copertura birthday 2020 vi ricordo ragazzi che nel 2018 per il compleanno ci regalarono il backpack con la torta di compleanno e il numero uno nel 2019 ci regalarano il piccone con la fettina di torta nel 2020 arriverà quindi la nuova copertura ci sono delle immagini ovviamente le colorazioni non saranno quelle che state vedendo questi sono semplicemente i file presenti nei codici però questa invece sarà la forma quindi il motivo della copertura ad esempio su uno scar come vedete sembra che possa essere di due stili quindi c'è proprio quello con gli zuccherini e rivediamo un attimino quello invece proprio glassato quindi io mi auguro e spero che non siano solamente che non sia solamente una copertura il regalo di quest'anno ma che magari ci sia qualche challenge carina per poterci dare un adesivo una roba del genere insomma per festeggiare al meglio il terzo anno sulla cresta dell'onda di fortnite e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché voglio ricordarvi una cosa importante e doveroso che ve la ricordo un'altra volta soprattutto per tutti gli utenti di ios attenzione perché fortnite status dice apple we no longer allow user to sign in into fortnite using sign in with apple non potrete più loggare su fortnite utilizzando accedi con apple tra l'altro questa cosa è stata ieri l'ultimo giorno se non hanno aggiornato o se non ci sono ancora arrivati con il fuso orario mi raccomando controllate e siate sicuri che le vostre credenziali siano a posto io personalmente non so come funziona l'accesso con apple però siate certi di poter accedere a fortnite anche da altri dispositivi ovviamente mi auguro che li abbiate in modo da non perdere la possibilità di giocare e andiamo avanti parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è una roba veramente curiosa e interessante che è stata trovata nei file di gioco come vedete ragazzi e come vi avevo già spiegato non esiste più il modo di recuperare le skin o gli outfit o i backpack o i deltaplani che sono criptati volutamente da epic games vengono mostrati in questo modo quindi si vede la sagoma e i coriandolini in poche parole questo ragazzi è un deltaplano e per un occhio attento si sarà già capito che è il deltaplano di nuovo riferito a star wars e più precisamente alla wing ship mi sembra che si chiama io non sono così un fan di star wars l'avevo letto per fare il video news me lo sono già dimenticato comunque questa è una delle navicelle che è la navicelle in realtà che possiamo vedere nel file criptato è palesemente palesemente lei come vedete le forme corrispondono tra l'altro questo vorrebbe poter dire seriamente un possibile ritorno di star wars non sappiamo se delle skin o magari di un mini evento anche perché c'è un altro fatto che ce ne dà la certezza il donna il donna il donna ragazzi quando il donna fa le modifiche va in visibilio mezza twitch e mezza youtube allora qualche giorno fa il donna donato mostarda aveva cambiato la sua copertina della pagina ufficiale di twitter ne avevamo già guardate alcune delle copertine dei libri nella copertina tra cui ragazzi spiantato livello in bella vista sulla destra c'è star wars penso che non sia ovviamente un caso perché il donna quando fa le cose non sono mai i casi e quindi io sono davvero fiducioso di un possibile ritorno di qualcosa dedicato a star wars ovviamente staremo a vedere vi tengo aggiornati non appena so qualcosa andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché l'avevamo vista ieri è confermata oggi questa è la nuova emote di tik tok way andate a dare un'occhiata e mi raccomando al mio canale di tik tok già che ne approfitto per allacciarmi pseudo official mi raccomando questa è la nuova emote del canale tik tok del balletto di tik tok ve la voglio far vedere è purtroppo copyrightata quindi non posso farvi sentire l'audio ma eccola qua ragazzi sembrerebbe essere proprio questa non ne siamo certi ovviamente ma questa è molto molto divertente staremo ovviamente a vedere non appena verrà decryptata e sicuramente la troverete la troveremo nello shop andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ci sono state delle modifiche non so chi di voi utilizzi fortnite con la grafica in epica ma hanno messo le volumetrix cloud che cavolo vuol dire vuol dire ragazzi che da adesso le nuvole sono nettamente più realistiche questo è l'inizio della trasformazione grafica di fortnite giocato in modalità epica che garantirà una sensazione di realismo davvero notevole un paio di mesi fa avevo già fatto un video enorme che vi spiegava anche come è stata elaborata la nuova acqua che non è quella che stiamo vedendo adesso ma è un'altra da adesso le volumetric clouds sono disponibili quindi provate se volete a metterlo in epico alzate gli occhi al cielo e guardate un pochettino che gran figata che hanno tirato fuori e prima di salutarvi ragazzi voglio parlarvi di questa nuova cosa che hanno scoperto purtroppo non riesco a parlare di venom ne parleremo domani tanto non c'è fretta sembrerebbe che nei file di gioco sia stata inserita una nuova lobby foundation che cos'è la lobby foundation per quanto riguarda i codici sorgenti la lobby foundation è la mappa di spawn mi spiego la pre non apre lobby dove ci sono tutti i giocatori prima di entrare in game in poche parole sto giro è la navicella spaziale quella che abbiamo noi è la lobby foundation 2 che è all'esterno della mappa ma quella che è stata trovata è la lobby foundation 3 che sarà addirittura sopra la mappa a 1,6 chilometri di distanza non sappiamo sinceramente perché se arriverà qualche modifica per quanto riguarda il gameplay ma io con questa immagine vi lascio con le news di oggi vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non vi dimenticate un bel pollicione in su iscrivetevi ai miei canali e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao